oi ragazzi sono con i fiammi e oggi sono qui in un nuovo video e sono in un video un po' diverso da solito ma infatti questo non è un live commentary ma è un post commentary di una partita fatta qualche giorno fa e sono qui per parlarvi di una cosa abbastanza importante ovvero del fatto che come avrete notato sono di nuovo stato assente per due settimane in queste due settimane ho pensato devo smettere di fare youtube oppure devo aprirmi un canale più avanti perché in questo momento il canale è inattivo da 200 persone mi commentano e mi lasciano mi piace 6 o 7 ho deciso di fare questa scelta e di abbandonare questo canale perché in questo momento non ho né tempo del computer per fare video perché ho un computer abbastanza del cacchio e non ho nemmeno una connessione che mi permette di caricare due o tre video a settimana e quindi ho deciso questo io vi chiedo con tutto il cuore se potete chiunque stia vedendo ancora questo video se può commentare dicendomi se devo quittare definitivamente e smettere di fare youtube oppure di aprirmi magari un altro canale più avanti partendo da zero e cercando di mantenere una certa regolarità inoltre vi chiedo di restare un attimo ancora attivi su questo canale perché tra quando avrò deciso praticamente o avrò visto i commenti e tutto farò un ultimo video dicendo se quitto o se più in futuro riaprirò un canale detto questo vi lascio il video velocizzato e boh commentate, lasciate like, fate quello che volete ciao a tutti no time for goodbye he said as he faded away don't put your life in someone's hands they're bound to steal it away don't hide don't hide your mistakes cause they'll find you burn you then he said if you wanna get out alive oh run for your life if you wanna get out alive oh run for your life if you wanna get out alive oh run for your life oh run for your life if you wanna get out alive if you wanna get out alive oh run for your life if you wanna get out alive oh run for your life if you wanna get out alive oh run for your life Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti